L'Associazione Amici del Giudice Rosario Livatino Ollus ha realizzato un calendario da tasca che è unico nel suo genere, anche perché inserisce nei 365 giorni, assieme alle feste e solennità, anche figure contemporanee elevate agli onori degli altari degli ultimi pontefici, così come santi e beati molto vicini ai giovani. Il calendarietto da tasca che la nostra associazione ha pensato di realizzare, dice il Presidente Giuseppe Palilla, muove le mosse da un'attività di ricerca durata alcuni mesi del nostro socio Enzo Gallo, che ha voluto farcene dono inserendo anche le solennità del nostro Rosario Livatino, di Don Pino Puglisi, del giovane Carlo Acutis, ma anche dei pontefici, sino ai patroni delle città-cappoluogo e sedi Vescovilli di Sicilia. Un lavoro che gli abbiamo proposto di ripetere ogni anno, attualizzandolo. Nel calendario appena realizzato ci sono molti beati e santi siciliani, così come i pontefici del Novecento e del Nuovo Millennio, ma anche Santa Gianna Beretta Molla, San Giovanni Bosco, Sant'Oscar Romeo, Santa Gemma Galgani, la Beata Suor Maria Troncatti, sino ai santi titolari di chiese e feste a Canicattì, insieme alle solennità delle chiese di Sicilia e di tutti i santi siciliani e francescani, nonché ai patroni d'Italia, d'Europa e dell'Ucraina.